Iscriviti ai canali Blue Voice Live e rubrica Dialoghi di Claudia Marcelli. Apprezzi i contenuti e vuoi sostenermi? Puoi farlo con un unico gesto, abbonati e potrai vedere i video senza pubblicità. Buona visione! Possiamo vedere nella schermata del video le caratteristiche, le proprietà del numero 4. Dice Eckart Sausen La moltiplicazione del numero 4, l'estrazione della sua radice, la sua moltiplicazione per se stesso e la considerazione della proporzione di tutti i numeri radici con i loro numeri radici è il più grande segreto della dottrina dei numeri. E' ciò che si trova in tutti gli scritti segreti sotto l'espressione della conoscenza del grande quaternario.